Ciro Serp e i volontari del Corpo Gav fanno un appello ai commercianti di Torre del Greco a favore degli animali. Chiediamo, visto che sta facendo un forte caldo, un pochettino di attenzione a mettere una scodella piena d'acqua per i nostri amici cagnolini e micette che purtroppo stanno soffrendo questo caldo. Un appello già fatto nelle precedenti estate? Certo, hanno risposto con una grande affluenza e chiediamo adesso di ripetere questa attenzione, gentilmente si intende. Francesca Busso, la ricordiamo? Qual è la mission? Quali sono le finalità che porta avanti il Corpo Gav? Noi guarda esofile, facciamo protezione per gli animali e diamo soccorso ai più deboli animali feriti. Sappiamo che è prematuramente scomparsa la vicepresidente Grazia Raia, una vita spesa per i più deboli e per gli animali. Che cosa vi ha insegnato Grazia? Che cosa vi ha trasmesso? Allora, Grazia ci ha trasmesso un bene per gli animali e la prima cosa il rispetto. Grazia stava sempre presente, era una persona presente su tutto e correva e ci ha fatto correre per rispettare le regole e aiutare i più bisognosi, i più in difficoltà animali che c'erano, feriti, maltrattamento e anche abusi di animali. Cosa le manca di più di Grazia in qualità di vicepresidente e di Grazia come amica? Allora, di Grazia ci manca tanto, tutto, il sorriso e anche le sue bacchettate che ci dava che ci dovevamo muovere subito a correre sul posto dove lì aveva bisogno di correre per aiutare i più deboli. E questo adesso è quello che voi mettete in pratica e che fate voi tutti i giorni? Eh sì, certo, dobbiamo lottare, combattere e portare avanti questo progetto che Grazia chiedeva a tutti quanti noi e ci stiamo riuscendo. Un po' difficile a portare avanti però ce la facciamo. Grazie a tutti.